E sapete la novità? No, quale? Il mio Walter si trasferisce a Milano. Attacchi lunedì. Sei contento? Tua sorella sarà ben felice di ospitarti. Io non sono né la tua poca né la tua cameriera. E' bene. Qui tutti siamo una grande famiglia. Dio, Tosetto, le guarnizioni e il folber. Il folber. E in che ruolo gioca? E lei crede che sia facile? Lei ha sempre pensato in piccolo. Rigore! Bravo, figlio! E' il proprio marito! Mi sa che lei è l'unico che conosco che non segue il calcio? Scusa, ma perché non ti fai insegnare da qualcuno? O ti adatti o ti licenzi. Ma perché proprio io? Perché ho detto che lei era il migliore. Lo riparava anche le mosche. Ma prima di fumarsi il cervello con quella in terreno, eh? C'è di mezzo una donna? No. Perché mai? Perché c'è sempre di mezzo una donna. Ho visto come ti guarda, sai? Oh no, farti scrupoli per me è... Il portiere non è un giocatore come tutti gli altri. È un ruolo unico, bellissimo, esaltante, micidiale. Ti basta una delusione e ti chiudi a riccio, eh? Sei un presuntuoso, Walter. Qua l'unica ragione per giocare sei te. Walter! È solo una partita, Giorgio. Io ti vorrei venire felice. È l'occasione che hai per imparare a buttarti senza protezione. Come mai non si lena con noi? Asma bronchiale, esentato, una militare. Ah, 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 ah Grazie a tutti.